Grazie Presidente, praticamente è stato illustrato da chi mi ha preceduto tutto il lavoro che in Commissione sia urbanistica che mobilità abbiamo fatto sul tema e ci sembrava opportuno presentare quest'atto oggi in Aula, anche perché abbiamo raccolto le richieste dei cittadini, dei comitati, ci siamo fatti promotori nei confronti del Municipio Decimo, che ringrazio di voler esprimere ed esplicitare questa loro richiesta attraverso un atto che è pervenuto lo scorso ottobre e che quindi va a modificare una precedente posizione del Municipio Decimo. Abbiamo fatto le verifiche sui fondi a disposizione e credo che quindi il lavoro per quanto riguarda la parte politica e le commissioni consiglieri si sia concluso e con questo ordine del giorno vogliamo dare impulso alla Giunta affinché si porti avanti il lavoro di adeguamento, di verifica del progetto, per verificare se saranno necessari ulteriori fondi e quindi ovviamente come gruppo del Movimento 5 Stelle voteremo favorevolmente anche perché siamo stati noi a proporre quest'atto e ci ripromettiamo di ritornare sul tema non appena la Giunta ci darà notizie che sono stati fatti dei passi avanti in questa direzione. Grazie.